Abbiamo giocato una partita molto solida per 40 minuti, sapevamo di quanto Trento avrebbe messo a livello di fisicità, di atletismo e di intensità e siamo stati molto pronti per tutto l'arco della partita a rispondere a questa fisicità, pur in una situazione di grande difficoltà che poi si è aggravata e, al di là della condizione di Peric, anche ora con l'infortunio di Ness. Devo dire che aver limitato alternando le difese durante la partita e costringere Trento a pensare un po' di più è stata una cosa importante ma la disponibilità di tutti i giocatori nel stare dentro la partita per 40 minuti a livello soprattutto difensivo per poi colpire sulle cose che ci sarebbero servite in attacco è stata molto importante. Come ho detto ai ragazzi, è sicuramente una grande vittoria contro una grande squadra, per di più fuori casa però adesso dobbiamo avere la forza di cancellare perché dobbiamo recuperare energie purtroppo dobbiamo vedere domani la risonanza per R.S. perché ci aspetta la trasferta in Germania ma credo che questa sia una vittoria che dà ancora più consapevolezza perché in un momento di difficoltà con poche energie, con giocatori che si sacrificano è un segnale di quanto questa squadra sia coesa di quanto questa squadra sia comunque disponibile anche tatticamente a fare delle cose diverse e devo dire che con pochi allenamenti questa sera la risposta è stata una risposta importante.